buonasera ragazzi bentornati frank michele ragazzi matman blog gamers for fun dalla regia matteo e diego bellissimi di nuovo qui altra sfida creazione rosa questa volta vi portiamo una di quelle avanzate ma grossi premi vi faccio rivedere finita tutta quanta un mega pacchetto raro in questo questa vela consiglio perché ho fatto delle formazioni al bacio vediamo la prima i cinque rari da già potete vedere tutti i bronzini argentini prezzi irrisori per esempio 300 steck l'anglitz 150 mirth in 700 stuart 650 christiansen 350 pic 650 molt 500 ma che in gamine spinta questa piccina del belen hernandez 750 duque 250 il ruiz 300 un blanco angolino di piazzana comunichiamo comprati al via sangio questa diva a risparmio ma ci andiamo a andarci sopra non ci devo andare nei quali nel sosto i sette sospetti perché stessa un macello per i requisiti però io la faccio vedere così com'è per canton mi non fregare qui si fa se vedete qua il padre uguale meno farsi vediamo barovero 350 dos santos 450 fernandez 450 grande federico fazio migliore in cui farsi gago 350 iguain 350 dominguez 450 piatti 450 all'escano 400 sand il triste sand 550 carriso 600 pure questa a prezzo irrisorio ma ne manco fai conto una media di 500 ma ne manco no vabbè ciao questa a noi i fantastici 9 pure questa importante come premio a tutti italiani c'è consigli 700 piccini mille due acerbi mille trebon era 400 cricido 950 dirlo 700 motta 600 caligiuri 750 soriano 700 o kaka 750 e big mac mac marroni ma nei 50 è un becchiato è un bello una sorta di gfb delle vecchie glorie maccaroni e molto aprile legato di ex giocatori è una valutazione precipitata proprio oggi si è ritirata un applauso più difficile questa è quella merita di un calciatore che si credeva solo di naso per fare questa acqua sono 11 campionati diversi questa velata subito così però c'è la magagna qual è la magagna deve avere un giocatore che ha la fedeltà quindi lo scurino verde questo ti 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 perché se la fate se la fa se comprate parte d'orsa tutti nello stesso ruolo lo dico e mettete tutti quanti lo stesso ruolo senza fedeltà vi da 99 quindi quando la farete a meno che la fedeltà come si raggiunge ho trovato il giocatore in un pacchetto quindi di giocatore lo scudino verde su quindi c'ha la fedeltà oppure se dovete giocare nella vostra squadra oppure fate questa squadra ci gioca di 10 partite però è inutile basta delle piate uno gli fate 10 pure se lo mettete in panchina mi sa che fa bene mi sa se anche se sta in panchina prenda fedeltà comunque però non vi assicuro probabilmente non lo so non ve lo dico però che evita apposto come a un mega pacchetto dai 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 non perdere al premio da 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 andiamo spacchettare dai dai sì sì qua spacchettamento è capo che torano negativi attacchi a casa vuoi fare la route spara parama ma ragazzi cioè guardate qua stavo faccio io cioè guardate la roba che vita e quanto abbiamo speso ma non roberto da crema allora adesso viene il dito di diego qui addirittura che apre il pacchetto romanzo salve ragazzi iniziamo qua un po un po botteghina prima gente andavo tutto il club in cazzo che gioco la faccio chiaro vabbè adesso per far condizioniamo il dito di matteo accassion solo dito perché è brutto è partito e gesto legge sono fede vediamo la giostrano attenzione vabbè un ottanta quadro non è visto stranamente da un ottantaquattrino c'è il presegno tassa gente a barovero ha usato un ragazzo non va malissimo franzergio questo lo faccio io pollicione con l'asina c'è buona rega da quanto costa c'è una 81 velocità attenzione pure il peccato era tanto costa e poi c'è pure l'altra roba aspetta ho preso pure un certo gabigol c'è guarda la roba real finisce più amiche mega pacchetto raro e c'è che pensavano che era un bel che avessi voluto non ho visto con lei e vollevi c'è guarda qua la roba regala e se tu pensi quello che sessi a tutti seppure se tu pensi questi oro rari seppure degli scarti da 600 al giocatore so 10 gente fatto 6.000 i tuoi e questo mi sembra mi sembra da insieme pacchetto giuderi oro prime è figlia ma c'è solo se ne vengo questo ci faccio dire adesso tutto con un secolo 64 4.000 era fatto essere spinta questa è una brand area questo king a fortissimo in una alta se non la fatevi perché di te 15 ma certo una fase dei coglionazzi alla faccia del coglionazzo come si direbbe un fantozzi è un bel è un bel direttore fate queste sfide non fate come michele non è anche lui si dimostra un coglionazzo e poi novità novità ragazzi è partito il gruppo su facebook gamers for fun se volete fa il torneo ai video descrive è partito tutto ragazzi ci mettiamo al nostro ma del buon padre posto vi scrivete la pagina e riscrivete al torneo al torneo non se poi i nemici facciamo noi da parte scherzi ragazzi fino a quando non vediamo che vi scrivete partito al torneo non potevo fatto nel fa del vostro ne facciamo il nostro mentatevi aumentatevi ci rivediamo presto per le nuove sfide andare a spizzare altri video abbiamo fatti ho appostato una chicca per chi vuole già in contropiede sulle formazioni e ci volete eseguire a breve troverete tutti i video su perché amante silent il 2 passeremo anche a credo elenoir e alan waker da seguiteci che vi fa al prossimo video e facciate quell'altra avanzata è l'unica che ci manca questa la faccia se non trovo niente se non trovi niente vedete la vera assi tutto il balcone sa beva da poi vede che trovi se poi trovi qualcosa di più foto speso fuori di chi avendo azzampata le vante io postate tutte quante le foto della roba che trovate facendo questa sfida pagando così poco e insultato perché abbiamo tutte quelle che ho fatto lui non ha fatto neanche una neanche una seguiteci ragazzi ma ciao belli ciao bellissimi ciao 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 ciao